Sanità, approvata all'unanimità la risoluzione sul trasporto sociale per soggetti con fragilità socio-economica. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Pecci, il Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni, ha risposto a un'interrogazione presentata da Luciana Bartolini e Massimiliano Baldini della Lega in merito alla Fondazione per le Arti Contemporane in Toscana. Sanità, maggioranza e opposizione insieme per la riforma dell'emergenza urgenza, la proposta di risoluzione è stata approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale. Approvata dall'Aula all'unanimità la risoluzione in merito al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica, che chiede di rivedere i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. La risoluzione è stata illustrata in Aula da Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità. Il documento, a valle poi di un percorso importante, partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio-economiche, sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario, che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni, attraverso le società della salute e le zone di stretto, come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini, la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. A quel punto ci sarà il risultato che un cittadino che non ha un problema sanitario per il quale deve essere trasportato ma che deve recarsi in un luogo di cura e non ha la macchina perché è anziano, è una persona sola, in questi casi non si tratta di trasporto sanitario ma sociale però è un bisogno a cui dare risposta e quindi ci sarà un sistema organizzato diversamente con il coinvolgimento anche dell'associazione volontariato sfruttando in particolar modo anche il tema della coprogettazione e coprogrammazione che permetterà di articolare anche tenendo conto il servizio, anche tenendo conto delle specificità del territorio. È una zona montana, è una zona dove ci sono i servizi e questi sono i comuni e le zone distretto che lo sanno bene sono in grado di organizzarlo con più rispondenza ai bisogni dei cittadini. Beh sì, direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale, questo lavoro è stato, hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione. Ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto, certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male, cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Noi abbiamo chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scelerata, ovvero quella di introdurre dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale, addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemie o la radioterapia. quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già approvate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario, in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici, dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso, avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili, ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro, il che evidentemente parlava da solo. La giunta ha avvarato una sperimentazione e nei primi mesi ci ha dato ragione, cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio, ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Rispondendo in alo all'interrogazione da parte dei due consiglieri della Lega, Baldini e Bartolini, in merito alla Fondazione per le Arti Contemporane in Toscana, il Presidente Eugenio Gianni ha ricordato che in questi giorni è in corso un forte dibattito sul Museo Pecci di Prato a causa del licenziamento di due dipendenti. La nomina di un componente del CDA della Fondazione, ha aggiunto, è di competenza del Consiglio regionale e verrà fatta prossimamente. Luciana Bartolini ha ricordato che il problema del Pecci riguarda tutta la Toscana in quanto museo di rilevanza regionale e che bisogna trovare un direttore che porta ad un rilancio complessivo del museo per tutte le attività svolte. Il Pecci non riguarda solo Prato, riguarda tutta l'arte contemporanea della Toscana. Vive di soldi pubblici del comune, un milione e due l'anno, la regione circa 6-700 fino a 800 mila euro l'anno e quindi sono soldi pubblici e vanno gestiti nel modo giusto. Il problema dei due licenziamenti ha fatto scoperchiare un po' tutte le problematiche che c'erano sotto e quindi stanno venendo un po' a galla. Il Presidente Gianni ci ha detto un Consiglio che ci saranno degli incontri a breve tra lui e il Sindaco di Prato e poi anche con il Consiglio d'Amministrazione che però è già, credo sia già scaduto, debba essere rinnovato e io spero che verrà rinnovato con buon senso perché ci vuole una persona, ci vogliono delle persone che sanno gestire questi luoghi altrimenti diventano luoghi dove i soldi si sperperano. Io ho avuto modo di parlarne con Gianni che si è impegnato personalmente perché il Centro per l'arte contemporanea Pecci è il centro dell'arte contemporanea della regione Toscana e quindi abbiamo tutto l'interesse affinché questo centro importantissimo, che non è solo della Toscana ma è un centro internazionale, abbia il valore che si merita e quindi dobbiamo essere noi stessi i primi sponsor di un centro così importante e anziché denigrarlo, come spesso vedo anche in questi giorni sui giornali, dobbiamo esserne i primi sostenitori. Anche non licenziando le persone, io ho chiesto che si tornasse indietro su questa decisione, vediamo nelle prossime ore cosa accadrà. Il Pecci è stato quello che ha ricevuto il minor taglio rispetto a tagli che sono stati fatti dalla regione Toscana per purtroppo esigenze di bilancio, però è stato quello a cui è stato tagliato meno di tutti. Quindi questo vuol dire che c'è un'importanza e una centralità di questo museo all'interno della regione Toscana. Quindi bisogna mettersi tutti insieme perché non basta un centro, non basta un bravo dirigente, non basta un bravo direttore, ma ci vuole che tutte le forze che stanno intorno a questo museo si mettano insieme e ne creino un rilancio. In primis l'opinione pubblica e quindi un appello perché si vada al Pecci e perché si valorizzi questa importante istituzione. Approvata all'unanimità dopo un efficace lavoro di sintesi in Commissione Sanità tra maggioranza e opposizione, la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento dell'Associazione del Volontariato. La proposta di risoluzione impegna la Giunta a garantire nel percorso di attuazione del processo legato alla riforma del sistema regionale dell'emergenza urgenza la massima condivisione con l'Associazione del Volontariato, sollecitando le aziende sanitarie locali della Toscana ad adottare modelli omogenei affinché si realizzi lo stesso livello di coinvolgimento sin dalle prime fasi del percorso che porta alla stesura di atti di indirizzo. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Quello è il tema della riorganizzazione dell'emergenza urgenza, sappiamo c'è una delibera della Giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale, finora avevamo una situazione a macchia di leopardo con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e in un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la Regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale, dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori necessità A che vengono coinvolte in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi che talvolta creano un appesentimento burocratico che si può eliminare e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. Siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra Regione. La nostra mozione è stata spostata in Commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della Regione Toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la Commissione, con il Presidente Sostegni che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in Commissione che oggi in Consiglio regionale. Siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della Pris. Diciamo che è alla luce del volontariato. Questo è importante perché la sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe. Per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in Commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste.